Bentornati a Radio Design, oggi siamo in compagnia di Francesca Diti, benvenuta. Grazie mille dell'invito. Allora Francesca, tu sei, diciamo qui, rappresenti il PEFC, possiamo chiamarlo così. Sì, o PFC. PFC fa più figo effettivamente. Cos'è il PEFC, questo Program for Endorsement of Forest Certification Schemes? Allora, noi siamo un ente normatore internazionale e io faccio parte della segreteria italiana. In quanto arte normatore, noi facciamo la norma per la gestione forestale sostenibile e quindi come si gestiscono le foreste in modo che siano sostenibili, cioè possano dare un ritorno economico mediante il taglio degli alberi e anche altre attività, ma allo stesso modo si mantenga la loro salubrità nel tempo. Poi questo legno che viene allontanato dalla foresta deve essere comunque tracciato per dire al consumatore finale che viene da una foresta ben gestita, che il taglio è legale e che ha comunque un impatto positivo sull'ambiente mediante una catena di custodia che è solamente la tracciabilità di tutte le fasi del legno e dei suoi derivati durante la filiera produttiva. Allora, sei qui per un motivo ovviamente, perché abbiamo, diciamo, stretto un legame noi dell'Istituto Italiano di Design, scusate, insieme a voi, per un progetto, giusto? Esattamente, perché non ci occupiamo solo di legno o di carta, ma anche di altri materiali. Stiamo andando avanti con questo tipo di oggetti, che sono foglie vere ricoperte per fare dei gioielli, dei bijoux, e le vogliamo certificare, perché anche queste possono venire da foreste certificate, ma abbiamo anche iniziato quest'altro progetto che riguarda le fibre naturali, cioè le fibre cellulosiche, che vengono estratte in maniera artificiale a partire dal legno, ma che comunque hanno una derivazione naturale, ovvero dalle foreste. Anche queste possono essere certificate e la cosa bella è che hanno un impatto molto minore sull'ambiente rispetto a quelle che sono le fibre sintetiche derivate dal petrolio o al cotone stesso, che ha un impatto molto elevato a causa dell'uso dell'acqua, dei pesticidi e così via. Sì, infatti lo ricordiamo circa due anni fa, due stati fa, è nato questo progetto che si chiamava Forest for Fashion, il nostro reparto del fashion design, è stato realizzato proprio una collezione grazie a questa collaborazione e ha fatto anche il giro del mondo, se non sbaglio. Sì, perché noi abbiamo sviluppato questo progetto, però non essendo esperti nel settore moda abbiamo scelto voi che eravate dei professionisti in questo e ci avete supportato, avete collaborato con noi per fare una sfilata, quindi cinque dei vostri studenti ci hanno aiutato, hanno disegnato e hanno prodotto questi abiti che in primo luogo sono stati presentati qui a Perugia in una sfilata sempre dal nome Forest for Fashion e poi grazie alla collaborazione che il PFC ha con l'UNECFAO questi abiti sono stati portati al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra e anche a New York, dove sono stati presentati per essere comunque il simbolo di una moda pulita, sostenibile e che comunque guarda al rispetto dell'ambiente. Esatto, poi questo progetto ha avuto anche una maggiore visibilità perché voi vi occupate anche proprio di comunicazione in generale in questo ambito, giusto? Esatto, noi abbiamo cercato comunque di promuoverlo, l'abbiamo portato ad altri eventi come le feste, festa ambiente che è la festa appunto che viene fatta ad agosto per la promozione appunto di quelli che sono le buone pratiche anche della sostenibilità in vari ambiti. Esatto, poi arriviamo a qualche giorno fa, la RAI è venuta a trovarci con Linea Verde e cosa è accaduto? Grande successo, anche la RAI con Linea Verde appunto si è interessata al nostro progetto e sono venuti poi per farsi spiegare come è stato il processo dell'elaborazione poi dei vari tessuti che sono stati utilizzati e quali sono stati poi gli abiti che sono stati prodotti è stata intervistata la vostra docente di design, Eleonora che ha collaborato con me e con gli altri del PFC per questo progetto e penso che sia un ottimo risultato perché cominciamo a far conoscere anche quello che è il grande pubblico, quelle che sono le alternative ai capi sintetici, alle fibre sintetiche. Ma che livello di consapevolezza c'è tra le aziende di questo mondo? Cioè il fatto che appunto è possibile in modo sostenibile anche economicamente poi produrre degli abiti e mandare avanti delle collezioni che siano diverse rispetto a quelle tradizionali. Diciamo che anche il settore della moda adesso sta iniziando ad aprirsi verso questi altri filoni produttivi anche perché l'impatto ambientale è altissimo della classica moda e del fast fashion soprattutto. Qui parliamo di concerie queste cose. Non solo concerie ma anche la produzione appunto di queste fibre sintetiche la fase di colorazione degli abiti è altamente impattante dal punto di vista ambientale per i residui delle sostanze chimiche usate. Quindi l'uso di queste fibre è risultato vantaggioso. I grandi marchi cominciano ad avere un alto interesse per le fibre che vengono sia dalla cellulosa ma anche per il riciclo di plastica o altre fibre che vengono da riscarti comunque alimentari la mela o quello che è il gran turco, le bucce dell'arancia. Bella questa con la mela. Sì esatto. E così appunto c'è un grande interesse e noi stiamo cercando di accontentare quelle che sono le richieste. Adesso c'è la grande moda, il fashion, il luxury. Speriamo che anche i brand minori comincino a seguire questo filone. E invece diciamo coloro che acquistano come fanno a rendersi conto se è un prodotto rispetto a meno? Ci sono delle indicazioni? Ci sono certificazioni di diverso tipo sia per l'uso di sostanze che non vadano ad inquinare quindi non siano tossiche per l'ambiente ma c'è anche una certificazione come la nostra che è la certificazione PFC che appunto assicura la tracciabilità della fibra a partire dalla foresta certificata e quindi gestita in maniera sostenibile tutta la filiera che arriva all'abito quella che può essere la t-shirt certificata e che quindi ha un impatto minore sull'ambiente. Bene, bene. Ma proprio a livello pratico io adesso vado in un negozio dove dovrei vedere l'etichetta? No, vai a vedere l'etichetta e vedi quali sono le certificazioni che vengono riportate per quel capo e appunto ti assicuri che... E qual è il tessuto che dovrei scegliere piuttosto che un altro per avere meno impatto? I tessuti che noi promuoviamo cioè che sono di fibra cellulosica sono il lyocel, il modal o il tencel che derivano o dal faggio o dall'eucalipto come specie legnosa e sono quelli appunto che hanno il più basso impatto. Poi anche la viscosa in realtà deriva da fibre dal legno solamente che in passato aveva un processo produttivo talmente impattante che si veniva dal legno ma in realtà aveva lo stesso un altro impatto sull'ambiente. Ah, questo è molto interessante. Adesso, allora, mi raccomando andiamo tutti a acquistare dei vestiti io lo faccio molto meno perché non è una mia pratica comune però soprattutto per voi donne che ci andate frequentemente... Esatto, sono presenti sul mercato queste fibre. Eh, allora, adesso le cerchiamo e sono curiosissimo dovrò fare anche dei video su questa cosa perché secondo me è estremamente interessante. Se qualcuno dovesse contattarvi come può farlo? Allora, noi abbiamo una mail istituzionale che è promozione-pefc.it e poi abbiamo il nostro sito internet www.pefc.it Bene, allora, grazie mille. Eh, grazie a voi. È stata veramente... È stato molto interessante questa cosa perché secondo me è un mondo che nessuno conosce ancora benissimo. Poco, poco. Dai, lo spingiamo così riusciremo ad avere un'ampia conoscenza del tema. Bene, allora, grazie mille. Vi ricordo che tutti i podcast li potete trovare in video su Facebook, su Radio Design, su YouTube, il nostro canale dell'Istituto Italiano di Design mentre i podcast su Spreaker, su iTunes e anche su tutte le altre piattaforme di distribuzione digitale. Alla prossima intervista. Grazie, Francesca.